Cercavo Nicoletta che è qui, che ci porta il suo saluto personale e il saluto dell'amministrazione che partecipa quindi a questo evento insieme all'amministrazione di Vulvaro Grasso che non vedo in giro ma che magari è qui. Buongiorno a tutti, porto i saluti da parte del sindaco Alessandro Rapinese ma ovviamente da parte di tutta la giunta comunale. Siamo felici di essere qui, di partecipare a questo evento perché è fondamentale, come ha detto anche lo stesso Gerardo, ricordare la memoria è importante in un popolo come il nostro, non dobbiamo dimenticare e dobbiamo continuare a sorvegliare perché questi avvenimenti non debbano accadere mai più. Purtroppo tutte queste persone sono state veramente travolte da un destino brutto perché è trovarsi lì in quel posto al momento sbagliato e nel luogo sbagliato. Quindi quello che realmente possiamo fare è questi tipi di eventi per ricordare sempre che non vogliamo che accadano mai più. Grazie a tutti. Grazie Nicoletta, io non ho ripetuto la storia che decine di volte abbiamo già ripetuto perché vedendo le vostre facce so che la storia di Carlo, Anna e di Luca e di tutti gli altri è una storia ai comaschi notissima e quindi non ce la ripetiamo. So che ci sono degli altri piccoli ricordi. Mario, vuoi? Vuoi leggere? Ah, l'hai messo l'anno? Allora va bene. Ok, adesso soltanto trovalo. Trovato.